Ma le moderne decennali di provaglio non sono più soltanto l'occasione per una specie di festival della nostalgia del buon tempo passato. Ma i soliti, i fioriti, e le donne, ma guardate che non si bagna, te lo voglio regalare. che non si bagna, che lo voglio regalare, che lo voglio regalare, perché non per me sei tu. Lo voglio regalare, perché non per me sei tu. Lo voglio dare al mio corretto, questa sera quando ti è. Lo voglio dare al mio corretto, questa sera quando ti è. Anche l'arte del presente trova il suo posto, ed ecco nella canonica della chiesa di San Michele di Livrio, le mostre di due artisti locali. So fermarsi. E' sempre pubblicità. Ah va bene allora, grazie. 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 Grazie.